C'è tempo ancora fino al 30 giugno per iscriversi alle selezioni per il bando di servizio civile nazionale Caritas che coinvolge la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro e quella di Fiesole. Sono 12 posti disponibili per il progetto denominato Arezzo Multietnica. È un progetto un po' in continuità già con i servizi che facciamo con i ragazzi del servizio civile. Abbiamo 12 posti, 7 posti sono sulla nostra Caritas diocesana, 5 posti sono sul Valdarno Aretino con Caritas di Fiesole. I nostri centri operativi dove i ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti possono svolgere il servizio civile sono 6, il centro di ascolto diocesano, il centro di ascolto di Cortona, la mensa di Urna in Piazza Giotto, l'ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi, Rondine Cittadella della Pace e la casa di accoglienza San Vincenzo. I ragazzi interessati possono presentarsi per un colloquio magari conoscitivo in via Fonte Veneziana. Una scelta che prevede un anno ricco di esperienze in cui i giovani impegnati nei vari centri avranno accesso ad un percorso formativo unico, conoscere se stessi attraverso il contatto con realtà spesso lontane dal quotidiano. Sono tre gli aspetti importanti che un giovane può maturare all'interno di un servizio civile in Caritas. Uno senz'altro è un'occasione formativa, il servizio civile nazionale risponde a quei doveri di solidarietà sociale, di cittadinanza attiva. Secondo è un'occasione di crescita anche nell'acquisizione di alcune competenze specifiche, perché comunque vada, si può maturare anche delle professionalità all'interno del servizio civile. E l'altro è senz'altro un'occasione per stare insieme, di gruppo. Noi come Caritas creiamo anche delle occasioni con i ragazzi in servizio civile di uscita, di confronto, di verifica. In qualche modo anche è un cammino che ci sentiamo di fare accanto ai ragazzi durante un anno intero. La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito www.caritasarezzo.it. Per consegnare la domanda di partecipazione in formato cartaceo, il relativo CV, eventuali attestati e copia del documento di identità, basterà recarsi alla sede della Caritas diocesana in via Fonte Veneziana ad Arezzo.